Buon salve cari pixelini e benvenuti in questa nuova fantastica avventura, questo è un video veramente molto molto breve perché io devo andare a ritirare un pacco misterioso che svolterà il canale da così a così ragazzi lo devo andare a ritirare esattamente qua dietro, c'è ora laggiù in fondo dove devo andare, mamma mamma mao ma ragazzi stay tuned, ora lo andrò a ritirare e poi vi farò vedere che cos'è senza aprirlo perché poi ci farò un video unboxing dedicato a lui perché poi sarà tutto tutto il mio canale sarà poi pressoché ovviamente incentrato su di esso, quindi questo video sarà breve soltanto per farvi vedere le novità, andiamo a ritirarlo in realtà parte del tutto è trovare dove sta questo posto perché non lo sto trovando ah eccolo qua piccolina sa tv piccolo spoiler mamma mamma mao allora ragazzi siamo qui con il bimbo il bimbo è a posto, il bimbo marchiato MSI è a bordo è a bordo e ne vedremo delle belle direi che è bello incinturato bello a posto e ora bisogna soltanto portarlo a casa e aprirlo e tutto ma ragazzi come vi ho detto questo sarà un altro video in questo video volevo soltanto farvi un po' di hype sulle novità del canale su ciò che succederà in questo canale da ora in poi perché? perché ora ho la potenza necessaria per portare molti più giochi molte più cose quindi ragazzi qua sotto fatemi sapere qualche gioco che vorrete che io porto non vi preoccupate saranno sempre a tema Harry Potter perché io sto parlando con questa mascherina quando sono solo in macchina mamma mamma mao quindi ragazzi qua sotto nei commenti fatemi sapere che giochi volete io e il bimbo andiamo a casa a configurarci a metterci a posto tutto quanto e poi vi farò un bel video dove ne parliamo in dettaglio ovviamente è impressionante averlo qua accanto comunque cioè è impressionante qui accanto a me cucciolino magari dentro c'è un sasso non lo so però spero di no per quello che è costato spero di no e grazie a tutti voi che avete permesso tutto ciò di averarsi con le vostre donazioni con i vostri con il vostro supporto e tanto tanto altro vi ricordo qua sotto in descrizione tutti i link di acquisto Amazon se volete supportarmi a voi non costa niente se fate un acquisto Amazon tramite il link qua sotto in descrizione ve lo lascio qui sotto potete comprare tranquillamente su Amazon ogni volta che andate su Amazon tramite questo link mi supportate a voi non verrà applicato nessun tipo di sovrapprezzo vi ricordo oppure se volete donare volete fare altre cose diventate abbonati o quant'altro trovate sempre qua sotto e in descrizione tutte le informazioni necessarie vi ricordo che coloro che donano o si abbonano hanno diritto anche i tacquini di Harry Potter o What's Mystery l'energia le monete tutto quanto infinito ma ragazzi direi che per oggi è tutto da me e dal mostriciattolo è tutto bisogna dargli un nome come lo chiamiamo bisogna dargli un nome fatemi sapere qua sotto che nome potremmo dargli e per oggi è tutto che altro dire fatto il misgatto mammao se anche tu come me non puoi più vedere dei poveri ipogrifi incatenati se anche tu come me non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici allora iscriviti al canale del pixel matto potrai trovare ricette gameplay notizie poteriane e molto altro ancora cosa aspetti iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta grazie a tutti grazie a tutti